Nicolo Livieri, ansia e attacchi di panico e con l'ematofobia, la paura è peggio della realtà. Nicolo Livieri, nelle sue Instagram Stories, ha risposto ad un box di domande e ha spiegato cosa significa essere ematofobica e come è possibile superare questo stato di disagio. L'attrice, ha raccontato che è normale che ognuno di noi abbia un punto debole. Una fobia o una paura che non ci permette di convivere serenamente con certe situazioni. Però, bisogna prendere consapevolezza che la paura è peggio della realtà, ha sottolineato Micol. L'attrice, diventata famosa interpretando la parte di Alice Cudicini nella famosissima serie TV dei Cesaroni, ha cercato di raccontare il suo rapporto con la fobia. Io sono ematofobica e posso dirvi che non c'è modo di affrontarla con i bambini. Mi è capitato di doverla affrontare e l'ho fatto. Mi sono resa conto che la paura spesso è peggio della realtà. Poi, ha aggiunto, chi soffre di stati di ansia, di attacchi di panico e chi ha delle fobie sviluppa inconsciamente delle paure relative alle proprie percezioni e immaginazione. Ciò che abbiamo nella nostra testa è molto più complicato rispetto a ciò che accade realmente. Grazie a tutti. Grazie a tutti.